Il Ministero della Salute in questi giorni sta pubblicizzando l'applicazione Immuni e invitando i cittadini a scaricarla sui propri smartphone e a utilizzarla. Nei mesi scorsi si è parlato molto di questa applicazione dal punto di vista della tutela della privacy, cioè della riservatezza dei dati personali e della sua efficacia. Oggi io desidero darvi delle informazioni che vi permettono di fondare le vostre opinioni sulle caratteristiche tecniche spiegate in modo divulgativo di questa applicazione e del sistema nel suo complesso. Bisogna sapere che per funzionare l'applicazione Immuni ha bisogno, prima di tutto, di integrarsi col sistema di notifiche di esposizione al Covid sviluppato da Google per i sistemi Android e da Apple per i sistemi iPhone. La mia presentazione farà riferimento prevalentemente al sistema operativo Android. Poi ha bisogno anche di un insieme di autorizzazioni, come tutte le applicazioni, di cui valuteremo in modo approfondito la portata, l'estensione, per capire effettivamente se e come i dati personali vengano coinvolti nel funzionamento dell'applicazione. Devo premettere che il sistema di notifiche dell'esposizione al Covid è un sistema sviluppato a livello internazionale, quindi non è sviluppato in modo specifico per un Paese né tanto meno per l'Italia. C'è poi da dire che questo motore di identificazione dei dispositivi e dei contatti può essere utilizzato da una sola applicazione per Paese commissionata dall'autorità sanitaria pubblica. Cominciamo allora a esaminare il sistema delle notifiche di esposizione. Per fare questo, tap sull'icona delle impostazioni, scorriamo l'elenco fino alla voce Google, su cui facciamo tap, e che apre l'elenco dei servizi di Google. Vediamo che in testa a tutti è comparso grossomodo dal mese di maggio il servizio notifiche di esposizione al Covid-19. Se facciamo tap su questa voce, si apre una informativa che può essere letta, che in prima battuta dà le informazioni di funzionamento. Per entrare più nel dettaglio, conviene fare tap sul punto interrogativo a destra del titolo notifiche relative al Covid-19. Si apre allora una descrizione del sistema, che potete leggere perché è redatta con linguaggio divulgativo, ma che io vi sintetizzo in questo modo. A cosa serve e cosa gestisce questo sistema? Fondamentalmente gestisce la rilevazione, lo scambio e la memorizzazione di ID casuali, cioè di identificativi che vengono assegnati alla persona che utilizza il dispositivo, che però cambiano circa una volta ogni 10-20 minuti e quindi non consentono di identificare con certezza l'utente. È come dire che la persona cambia nome e cognome ogni 10-20 minuti. Questo identificativo viene scambiato mediante un protocollo di comunicazione a breve distanza, che si chiama Bluetooth, con i dispositivi delle persone con le quali si viene a contatto. Le funzionalità sono fondamentalmente due. La prima è quella di rilevare se si entra in contatto con persone che siano positive al virus. E questo come avviene? Avviene scaricando una volta al giorno da un sistema centrale che raccoglie le segnalazioni di positività sul proprio dispositivo e confrontando gli ID casuali delle persone che si sono dichiarate positive con quelli delle persone con cui si è entrati in contatto. Nel caso in cui ci sia una corrispondenza, il sistema avvisa di essere venuti a contatto con una persona positiva al virus. Il fatto che gli ID siano casuali e cambino nel tempo, per esempio cosa significa? Che se una persona venisse a contatto con un positivo due volte nella stessa giornata, a distanza ad esempio di due ore, risulterebbero due esposizioni e non saprebbe il sistema se le persone coinvolte in questo contatto siano sempre le stesse. C'è anche da dire che questi ID casuali vengono cancellati ogni 14 giorni perché è inutile possederli per un periodo più lungo dal momento che il termine di contagio è appunto di 14 giorni. Viceversa, nel momento in cui a un tampone si risulti positivi, è possibile, ma a questo punto deve essere dato un consenso esplicito, comunicare i propri contatti al sistema centrale e questo viene fatto attraverso l'autorizzazione di un operatore sanitario. Dunque questa è una garanzia che le informazioni che vengono comunicate al sistema centrale siano controllate da una persona responsabile e che quindi non ci sia l'arbitrio di ciascuno di comunicare i dati anche in modo truffaldino. Per quanto riguarda le autorizzazioni, torniamo al sistema delle impostazioni di Google e andiamo ad analizzare quali siano. A questo punto facciamo tap sulla voce applicazioni, scegliamo la voce immuni e andiamo ad analizzare le autorizzazioni. Vediamo immediatamente che nessuna autorizzazione consentita significa che non c'è stato richiesto di consentire consensualmente l'uso di nessuna funzione. Se facciamo tap sul menu contestuale di tutte le autorizzazioni, vediamo quali sono quelle che comunque di base debbono essere fornite indipendentemente dal proprio consenso per consentire il funzionamento. E qui, leggendolo in dettaglio, rileviamo che fondamentalmente si tratta di tre autorizzazioni. la ricerca delle connessioni e la gestione dell'accesso alle reti internet, l'accoppiamento con dispositivi Bluetooth, quindi la possibilità di scambiare dei dati tramite questo protocollo e il funzionamento, come si dice in gergo, in background, cioè quando anche l'utente non stia utilizzando lo smartphone, ad esempio ce l'ha in tasca e quindi come si dice è in pausa, è in stand-by, l'applicazione continua a funzionare. Questo è necessario naturalmente per coprire tutto il tempo della vita sociale della persona. C'è da dire che per consentire il funzionamento del Bluetooth è necessario che il sistema rilevi la posizione, ma questa rilevazione non comporta la rilevazione della posizione geografica geolocalizzata. Per capire effettivamente la portata di quanto detto, andiamo ad analizzare ad esempio le autorizzazioni che si concedono a un social network, per esempio a Facebook. Se andiamo a vedere qual è l'elenco delle autorizzazioni, intanto ci accorgiamo immediatamente che esistono delle autorizzazioni richieste a cui abbiamo consentito, in particolare quella di geolocalizzazione. Se poi andiamo ad esaminare tutte le autorizzazioni concesse, anche qui vediamo che c'è un elenco estremamente più ampio, perché ad esempio, nel mio caso, ho dato il consenso ad accedere agli eventi in calendario, addirittura alla rubrica dei contatti personali, alla fotocamera. E per quanto riguarda la geolocalizzazione, due autorizzazioni, una a rilevare la posizione approssimativa tramite le celle della rete di comunicazione e l'altra rilevando la posizione via GPS. Dunque ci rendiamo conto che diamo ai social network molte, ma molte più autorizzazioni per il tracciamento della posizione e dati personali di quanti non si diano all'applicazione Immuni. A quale conclusioni possiamo pervenire? Paradossalmente, prima di tutto, sono le politiche di Google e di Apple che garantiscono la tutela della privacy per motivi di convenienza economica, perché queste compagnie non venderebbero nel mondo i loro dispositivi se la privacy dei loro utenti non fosse garantita. In Europa, poi, c'è da dire che le compagnie devono comunque sottostare alla direttiva europea che si chiama GDPR e che tutela la privacy dei suoi cittadini e a fronte delle quali le inadempienze potrebbero far incorrere in pesanti sanzioni le compagnie stesse. Certamente fa impressione che gli Stati nazionali non abbiano un potere nei confronti di queste compagnie al punto che si dice che le compagnie hanno un potere superiore e per questo inquietante. Però abbiamo già visto in tanti altri esempi e in tanti altri casi che la struttura politico-amministrativa degli Stati è sempre più incongruente con la struttura del mondo economico. Resta il fatto che, a mio modo di vedere, l'utilizzo di questa applicazione comporta un vantaggio personale innegabile perché c'è la possibilità se effettivamente l'applicazione fosse molto diffusa e quindi manifestasse in pieno la sua efficacia di essere avvisati personalmente di un contatto con positivi e quindi poter adottare tutte le azioni necessarie per prendere sin dall'inizio tutte le cautele, tutte le precauzioni, tutte le azioni necessarie. In mancanza di questo sistema di allarme evidentemente noi non avremmo queste informazioni e quindi nel caso della necessità interverremo in modo tardivo. Il fatto poi che nel mondo della rete di internet sia molto diffuso il modello di business per cui si pagano i servizi con i propri dati personali è un fatto ormai largamente diffuso e che noi normalmente accettiamo. Probabilmente lo accettiamo perché preferiamo questa transazione rispetto a una transazione economica a un esborso monetario. Quindi nel caso specifico in cui abbiamo visto che i dati personali che sono in gioco sono ridotti all'essenziale e anzi ciò che viene messo in gioco non è l'identità delle persone che entrano in contatto ma è solo la loro relazione. questo ci fa pensare che la nostra privacy non sia così in pericolo per via dell'applicazione immuni. Anzi, semmai dovremmo essere preoccupati per l'utilizzo che facciamo dei social network e dell'e-commerce soprattutto quando questo sia un utilizzo non consapevole e arrischiato. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.